Il più cordiale e buon venerdì da Maria Beatrice Crisci, le audio news di Onda Web TV, le notizie in positivo. Sorella, madre, terra. Appuntamento a Villetta Giacuinto a Caserta domani dalle 16.30 alle 19.30. Sarà questa l'occasione per passare insieme qualche ora a contatto con la natura. I ragazzi di Casa San Francesco regaleranno alla città un alberello di ulivo che pianteranno all'interno della Villetta con l'impegno di curarlo e di seguirne la crescita. Nella splendida location dell'Anfiteatro Campano di Santa Maria Capovetere domani serata a tributo allo scrittore giornalista Silvestro Montanaro, recentemente scomparso. Appuntamento dalle ore 21.30. Sarà invece il Giardino Inglese ad ospitare domani e domenica la quarta edizione di Kundalini Yoga alla Reggia dal titolo La Via dei Talenti. L'evento è organizzato in collaborazione con l'Associazione Arnia di Caserta ed un gruppo di insegnanti certificati di Kundalini Yoga che si propongono di diffondere questa disciplina a chiunque voglia conoscerla e sperimentarla. Nella nuova sede di Omniarte Caserta, centro delle arti e dello spettacolo diretto dal maestro Fabrizio Coppo, Corso Giannone 44, Palazzo Crispino, sono aperte le iscrizioni all'anno 2020-2021. Tra gli altri c'è il Corso di Tango Argentino con prova gratuita il 24 settembre. Affrettatevi! Ed è tutto da Maria Beatrice Crisci, un grande abbraccio e una raccomandazione.